Siamo con Alessandro Riguccini perché ci sono delle novità importanti da annunciare. Sì, sicuramente. Come era prevedibile, sono in prossimità di una difesa del mio titolo mondiale silver che suppongo avverrà in Messico, credo a Cancun, anche se ci sarebbe piaciuto farla direttamente negli Stati Uniti, ma penso che da come ho parlato con i miei promotori e tutto il resto verrà fatta in Messico come al solito. Sarà una cosa molto importante perché sarà un'anticamera, visto che l'avversario suppongo sarà molto forte per avere una chance per il titolo, quello vero, quello assoluto, quello gold WBC che tutti cercano, che tutti vogliono e anche io sono nella stessa posizione degli altri pugili. Sono riuscito ad arrivare a questo importantissimo titolo WBC, il mondiale silver è sempre un sogno, mi sento, diciamo, già realizzato perché è una cosa incredibile vincere un obiettivo così grande e adesso vogliamo concretizzare questo sogno, questo percorso, queste difficoltà che abbiamo affrontato e lo ricordo sono imbattuto, non solo sono campione del mondo, sono anche con zero sconfitto dopo 22 incontri sostenuti, un numero altissimo di KO, 18 su 22, quindi ci sono tutti i presupposti per entrare nel palcoscenico importante, per combattere negli Stati Uniti, nel palcoscenico dove ci sono i soldi che contano, quelli veri e anche i soldi, oltre i soldi anche il pubblico, quello vero, insomma non è la stessa cosa combattere a Città del Messico che combattere al Mandalay Bay o all'MGN Grant di Las Vegas o comunque al Madison Square Garden di New York. Adesso con questo titolo, con questo record, sono ancora giovane, ho 30 anni, per il Pugilato intendo, e posso permettermi di richiedere una cosa del genere, di sognare una cosa del genere. Voglio combattere a Las Vegas per un titolo importante e voglio vincere perché sono arrivato a questo punto, ho la piena facoltà di dire che ce la posso fare, non tanto per le mie dosi tecniche, se non per la potenza dei miei colpi che mi hanno portato ad avere un record con quasi tutti i KO e nessuna sconfitta, quindi sia io che il mio sponsor principale Marco Piccini siamo dediti al fatto di combattere negli Stati Uniti dopo aver fatto questa difesa, che avverrà penso a febbraio, comunque nell'intervista che seguirà a breve lascerò dichiarazioni ufficiali sulla mia prossima difesa di questo titolo. Sono molto felice di avere già notizie ad appena un mese e mezzo della vittoria del mio titolo, questo vuol dire che ci siamo, vuol dire che c'è interesse, vuol dire che stiamo lavorando in modo eccelso, voglio dichiarare che anche se per il momento non mi sono riallenato al 100%, ce la metterò tutta, già da prima che iniziano le feste mi ci voleva proprio un po' di riposo, mi sono rilassato, mi sono riposato, sono stato bene con la famiglia, con la mia ragazza, siamo stati in vacanza, però adesso voglio rimettere la testa al posto giusto, voglio ricominciare ad allenarmi seriamente, a fare tutto quello che è necessario, non solo, ripeto, per difendere il mio titolo mondiale silver, WBC, ma anche per provare a vincere il titolo mondiale assoluto, che mi proietterebbe di colpo sull'olimpo del pugilato. Quindi un periodo di festa, tra virgolette, per poi buttarsi veramente sull'allenamento vero per prepararsi. Sì, molti di voi non sanno che io sto anche per terminare la laurea magistrale in ingegneria informatica, mi manca appena un solo esame, ho già consegnato addirittura la tesi, quindi ho avuto in questo periodo purtroppo, per fortuna, il fuego, si dice, in Messico, perché? Perché ti trovi a dover studiare, a dover fare la dieta, a dover comunque sostenere degli esami, che sono uno stress psicologico, sommato allo stress psicologico che si viene ad avere per un combattimento, per la dieta che c'è prima del combattimento e per tutto il resto. Quindi sono molto soddisfatto, non solo dell'ambito sportivo, anche di quello scolastico. Adesso ci rimetteremo seriamente ad allenarci, farò il percorso che devo fare e spero sia auspicabile vincere il titolo mondiale WBC dei Paesi Welte.